Ben trovati, ho il grande privilegio di essere tra i protagonisti attivi di un bellissimo evento per il prossimo 21 aprile presso Luna Hotel Regina di Torriammare, un evento incredibile organizzato dal mio grande amico Michele Tribuzio in arte Zio Mike, l'evento Le vie del benessere. Zio Mike è stato capace di mettere insieme una squadra incredibile di esperti e di medici che ci daranno dei consigli e mi daranno dei consigli sulla nostra salute e sul nostro equilibrio psicofisico. Grandi personaggi, il mio grande amico Claudio Pagliara, medico-encologo, Bartolo Allegrini, Giorgio Terziani, il mio grande amico Marco Fiorese, la voce in Italia e in Europa di Colin Campbell, l'autore The China Study. Quindi grandi protagonisti, grandi esperti a favore della nostra salute e del nostro benessere. Io darò il mio contributo con il mio speech che ho denominato l'angolo della felicità, modi e strumenti. Vi aspetto il 21 aprile, tutti insieme, per un grande evento. Ciao!